Ciao giorno, buon anno! Inauguriamo oggi come primo video del 2017 la mia rubrica, anzi la nostra rubrica sul mondo del cosplay e di come realizziamo i nostri costumi. Che voi siete esperti o principianti, ricominciamo dall'inizio, in modo che così possiamo sia crescere insieme che rischiarirci un po' le idee. Ipotizziamo o no che voi siete andati alla vostra prima fiera del fumetto, che avete visto delle strane persone con una parrucca e un costume addosso che si atteggiavano esattamente come il tipo di personaggio che stavano interpretando. E i vostri amici o le persone che stavano lì vi dicevano che erano cosplayer. La fiera va, fate i vostri acquisti, vi divertite tramite gli eventi che ci sono, gli eventi, gli spettacoli che ci sono, e poi in seguito tornate a casa e nel tragitto viene anche a voi l'idea di realizzare il vostro primo cosplay. Perché tanto questo mondo vi è attirato. E adesso, da dove iniziare? Non sapete nulla a riguardo, non vi siete mai addentrati in questo mondo. Da dove inizio? Bene, il primo passo per realizzare un cosplay è scegliere il personaggio. Fre-fre-fre-fre-fre-na-fre-na-fre-na-fre-na-fre-na- Lo so, stai pensando questo è il passo più semplice, stai pensando, eh ma io so già che cosa portare. E invece non lo è, perché magari su quel personaggio che hai scelto ci vuole un durissimo lavoro dietro, di cui se magari non sei tanto esperto risulta un pochettino faticoso e oltre che costoso. Quindi fai un passo indietro, aspetta che io finisca questo video e poi valuta effettivamente se il tuo personaggio ne vale la pena oppure se magari potresti iniziare sempre con un personaggio che a te piace però che ti venga un po' più incontro. Mi spiego, se tu vuoi iniziare a fare cosplay e vuoi partire da un Iron Man o da una Jinx e tu non hai mai fatto un cosplay in vita tua ti diventa difficile, è un pochettino come, magari non sei neanche pratico con gli acquisti online, non sei pratico con ago e filo, non sai molto sul materiale, è un pochettino come disegnare, come dire io voglio fare un manga e non ho neanche l'idea di come si faccia un triangolo, quindi io andrei piano piano e valuterei la cosa. Quindi, come avrete capito, il numero uno per scegliere il personaggio è, avete appena cominciato, andate con un cosplay semplice. Un cosplay che magari sia più alla vostra portata, senza troppi dettagli, senza troppe cure, che sia, insomma, molto fattibile, che magari non dovete spenderci capitali. Questo perché? Perché se state adesso iniziando il mondo del cosplay, il mondo del cosplay prevede anche molti soldi spesi, molta fatica, molte serate spese a progettare il cosplay, a finire di realizzarlo. Diciamo che facendo un cosplay semplice, essendo la vostra prima volta, vi aiuterà anche a godervi meglio la fiera dove parteciperete, dove porterete quel cosplay e vi verrà quindi molto molto più facile anche vedere i benefici, prima di vedere i lati negativi. Vi dico anche la mia, partecipo a tante fiere del fumetto e vi dico che è un pochettino brutto vedere sempre i soliti personaggi, anche molto complessi, e magari mancano anche quei personaggi base che magari sono così semplici, così amati, eppure mancano. Proprio perché si pensa che più il cosplay sia semplice, più sia di qualità inferiore. È sbagliatissimo perché un cosplay, lo vedete in base ai materiali che vengono scelti, alla qualità dei materiali scelti, intendo anche la parrucca, e dall'interpretazione che ci date. Non c'entra assolutamente che voi vogliate fare un L come se voglierete fare, appunto, Iron Man o Gundam. Come secondo step, invece, vi consiglio di scegliere un personaggio di una serie che avete seguito per intero, quindi che sapete che è iniziata e finita, che vi è piaciuto, oppure addirittura un anime o un cartone o una serie, diciamo così in generale, così riusciamo a includere tutto quanto, dalla quale prendere spunto. Perché? Perché fare un personaggio, i personaggi vanno... se la serie non è completa, rischierete che magari non conoscete molto bene il vostro personaggio. Inoltre, in questo modo, vi sarà anche più facile lo studio del personaggio, che diciamo che è un passo che si fa comunque dopo averlo realizzato, in modo da poterne assumere meglio le caratteristiche, il comportamento, eccetera. Quindi, non fate assolutamente un personaggio che non conoscete, perché potreste veramente fare brutte, bruttissime figure. Quindi ve lo sconsiglio altamente. E questo si ricollega anche al numero 3. Ovvero, evitate di fare un personaggio che non conoscete o che addirittura dispreziate. Perché? Innanzitutto è inutile presentarsi a una fiera con un personaggio che non si conosce, significa semplicemente perdere tempo nel realizzarlo, perdere soldi se lo volete magari comprare. E quindi, essenzialmente, non serve a voi e non serve neanche agli altri, perché anche se gli altri ti riconoscono, ti vengono addosso, e poi tu non sai neanche come comportarti, non sai come metterti in posa, eccetera, verrà un po' difficile, ti verrà molto difficile, e tu non apprezzerai affatto tutto quello che appunto hai fatto, e gli altri nemmeno, perché gli altri capiranno semplicemente che tu ti sei messo quel costume per farti vedere. Che ok, che diciamo, cioè, il mondo del cosplay è un po' un farsi vedere, ma non è farsi vedere e divertirsi, mettersi nei panni di quel personaggio che per noi può essere un eroe. Senza considerare anche il fatto che, se facciamo un personaggio che non ci piace oppure che non conosciamo, l'interpretazione naturalmente calerebbe, in quanto non siamo appunto capaci di comportarci esattamente come si comporta quel personaggio. Passo il numero 4. Ok, il numero 4 diciamo che in tutto è il più vago, perché al giorno d'oggi questi sistemi comunque sono un pochettino diversi, però vi possono tornare molto utili. Se vi è possibile, scegliete un personaggio che anche fisicamente vi somigli. Vi spiego il perché di questo, perché innanzitutto, se ci somigliate di più, l'effetto verrà migliore, quindi molte persone apprezzeranno tanto, tanto, tanto di più il vostro cosplay. Mi ricordo che quando andai a Fumetopoli, vidi uno che aveva fatto il cosplay di Jack Sparrow, questo è un cosplayer famoso, ma io non mi ricordo il nome. Principalmente anche perché io con i nomi faccio schifo, già lo comincio a dire. Ragazzi, se lo vedevate identico, capito? Che cosa significa identico? Ma a parte il realizzo del costume che era fatto veramente bene, ma questo qua anche di faccia, non era proprio solo il trucco, cioè era anche la sua base che era molto simile a lui. Quindi ora non dico che dovete per forza fare quel personaggio, no, io ve lo sto dicendo come consiglio. Se magari conoscete un personaggio che vi può interessare, cui ci assomigliate, se ne avete l'opportunità, fatelo, perché per voi potreste... potreste... potrebbe essere una grossa, grossa, grossa rivelazione. E sarete anche molto più notati. Seconda parte, diciamo, che invece riguarda i connotati. Cioè, se dobbiamo radicalmente cambiare faccia, diciamo così, e magari ci sono delle complicazioni, dobbiamo sempre andare a metterci un costo che supera anche il costume. Mi spiego. Mettiamo il caso che tu abbia i capelli neri e gli occhi scuri e ti venga in mente di realizzare Naruto. Dovrai comprare una parrucca bionda, il che va bene, cioè alla fine per qualsiasi personaggio si compra una parrucca che ha i capelli o almeno che non si veda. Ma dovrai anche comprare delle lenti a contatto. E' vero che dici, su online si trovano queste lenti a contatto annuali, però almeno da come le compro io le lenti a contatto più di un mese non mi durano e hanno anche un certo costo. E quindi se la fiera del fumetto è fra tre mesi e voi l'avete già portato una volta e lo volete riportare anche la seconda volta, dovrete andare nuovamente a comprare le lenti a contatto. Già ancora se questo personaggio è abbastanza svestito, perché è brutto poi vedersi, insomma, mi rivolgo ai maschietti almeno, vedersi con i peli addosso magari di un personaggio che di per sé è molto chiaro e vedersi con i peli scuri, cioè dovreste andare a depilarvi ogni volta. E oltre al dolore e all'irritazione che viene alla pelle dopo, sì, perché vi viene un'irritazione che ci vuole veramente tanto, 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 tanto tempo e cura prima che vi passi, sarà anche molto costoso, quindi valuta, oddio, molto, relativamente costoso, però comunque è una spesa ogni volta che dovrete portare quel personaggio. Quindi per voi vi consiglio di portare un personaggio che bene o male, non per tutte, in tutto e per tutto, però almeno in piccola parte vi somigli. Step numero 5. Se magari quel personaggio ha dei problemi, che so, è troppo dettagliato, è troppo svestito, e ha un'armatura terrificante, non abbiate per forza la cosa di dire no, io quel personaggio non lo posso fare perché è troppo complesso per me o non va bene per me. Invece considerate le versioni, che è esattamente come avviene per noi comuni esseri mortali. Anche i personaggi di qualsiasi serie possono avere delle varie versioni, dei cambiamenti proprio in fatto di abbigliamento, in fatto di poteri, non lo so, diciamo di abbigliamento, ma noi ci interessiamo principalmente dell'abbigliamento. E quindi magari se quel costume non va benissimo per voi, potete vedere un pochettino se di quel costume c'è un'altra versione. Per esempio, c'era una mia amica che vuole interpretare, fare il cosplay di C18. C18 non è semplicemente quella là con il gilet blu, le maniche, non sembrate, come si dice, a righe, o il top nero, e la gonna blu, eccetera eccetera. Ma ci sono altre versioni di C18, che vanno benissimo se le vuoi fare, e anche un po' meno dettagliate, anche più coperte. Ma questo è solo un esempio. Ti interessa Superman? Vuoi vedere Superman? Non c'è soltanto il costume, Superman in versione costume, ma quel Clark Kent, lo vuoi considerare anche un po'. Poi considerate che le versioni sono infinite, perché anche se non vengono molto ben viste, perché comunque non si tratta di versioni ufficiali, ma ci sono anche le fan art, cioè significa magari quei personaggi con un determinato stile, personaggi disegnati in una determinata maniera, come può essere la versione punk D, la versione, cioè addirittura la versione estiva, cioè quella che va in versione in costume da bagno, anche se questo qua è un bello sconsiglio, ci sono proprio gli eventi appostiti, appostiti, appositi, per portare questo genere di cosplay. Oppure ci sono anche le versioni gender band, o le versioni cross play, che sono praticamente i primi, portare un personaggio del sesso opposto e far diventare nostro, oppure travestirsi proprio da quel personaggio, fottendosene del fatto che voi siete maschio o femmina. Però di queste due versioni ne vorrei parlare in un altro video, magari dopo aver finito di parlare bene, di come realizzare appunto un cosplay. Punto numero 6, e non mi stancherò mai di dirlo, fate ciò che vi rende felice. Quindi, queste cose che vi ho detto sono consigli. Voi potete decidere se applicarli o non applicarli. Volete realizzare un costume difficile? Fate il costume difficile. Volete realizzare un costume facile? Fatelo facile. Dipende tutto da voi. Naturalmente però considerate che potreste non uscirne totalmente soddisfatti alla fine. e vi dico per esperienza che ogni volta che finirete un costume ci sarà sempre qualcosa che non vi piace e perderete tantissimo, tantissimo tempo prima di riaggiustarlo. E ricordatevi che alle fiere di questo 2017 vi voglio vedere tutti quanti. Bene ragazzi, il video è finito. Questa prima parte sulla scelta del personaggio è fatta. La prossima volta andremo a vedere invece proprio lo studio del personaggio. Io vi saluto, mi mando un mega bacione e alla prossima. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e di lasciare un like qua sotto. Altrimenti le lenticchie mangiate a Capodanno saranno servite a poco. Non è vero. Ok dai, vamo ai seri. Ciao ragazzi.